Musica Nella vita degli altri una canzone mai terminata è diventata sempre più grande, è diventato un romanzo è diventato un romanzo su mia stessa sorpresa, nel senso che quando la creatività la lascia andare io dico sempre che questo è un romanzo che un po' mi è sfuggito di mano è un romanzo che va cantato a una canzone che va letta, non so bene come definirlo nel senso che io volevo raccontare qualcosa che all'inizio pensavo stesse bene nella forma di una canzone poi non riuscivo mai a concluderla questa canzone, sentivo sempre che c'era qualcosa in inespresso qualcosa che non avevo spiegato come volevo, io a un certo punto mi sono fidato del consiglio di qualcuno che mi ha detto di scrivere tutto quello che avrei voluto dire nella canzone e questa scrittura in realtà è durata due anni con l'intento poi alla fine in realtà di sintetizzare e dire poi quello che ho scritto per questi due anni, lo sintetizzerò e diventerò una canzone poi mi sono accorto che quando la stesura è stata completata la canzone già c'era era una canzone che aveva delle note diverse da quelle che io normalmente sono solito cantare però insomma mi sembrava dignitoso lasciarla vivere nella maniera in cui si era presentata a me e quindi è diventato questo romanzo Ecco, un libro da leggere ad alta voce proprio per questo suono particolare delle parole Beh ma perché la mia scrittura nasce comunque dalla musica insomma la mia abitudine è scrivere musica e quindi è pure normale nel momento in cui c'è un approccio ad una piattaforma se vuoi diversa quale può essere quella di un romanzo comunque mantenere quel tipo di suono, di scansione ritmica, di scansione metrica la musicalità delle parole, non solo che cosa le parole vogliono intendere ma le parole come suonano e l'emotività del suono che poi insomma ti racconta comunque un contenuto ma anche perché ripeto non c'è mai stata forse davvero l'intenzione di scrivere un romanzo se ci pensi bene questo romanzo parte dall'errore e da un limite mio di non saper sintetizzare era una canzone e quindi io nella scrittura così l'ho intesa Pensi di essere arrivato alla sensibilità delle persone visto che sei abituato a farlo con le canzoni con questo libro sei arrivato alla loro sensibilità? Guarda non lo so e lo sto scoprendo anch'io nel senso che io sono abituato che quando canto una canzone sai in diretta la reazione delle persone quando tu canti è sempre come se fosse un duetto silenzioso perché in base al modo in cui canti poi le persone assumono un'espressività e quell'espressività ti porta a cantare in un altro modo insomma è un circolo il libro è invece un po' un atto di solitudine ognuno legge a modo proprio c'è chi il libro lo tiene come una reliquia c'è chi piega tutta la fisarmonica chi sottolinea ed è curioso per me in realtà adesso scoprire quale ponte empatico si può creare con un contenuto creativo diverso dalla musica ma comunque che gira insomma intorno ad una stessa identità Hai trovato differenza nell'esprimerti attraverso un libro invece nell'esprimerti con la musica? Guarda forse lo sto capendo adesso la differenza sostanziale è più l'incontro la rilettura che si fa del proprio contenuto creativo normalmente quando tu pubblichi una canzone vedi come poi le persone possano attaccarci sopra un pezzo della propria vita le canzoni che hanno accompagnato gli anni della mia vita sono diventate ho avuto la fortuna insomma che diventassero anche di altre persone e dentro quelle canzoni non ci sono solo più i miei ricordi ci sono momenti della vita di tante persone che condividono e fanno proprio quel racconto col libro lo sto scoprendo piano piano questo sto scoprendo che è un modo di approcciarsi da un modo di legarsi al contenuto un po' più sottile un po' più profondo un po' più intimo anche un po' più silenzioso se vuoi e quindi forse è quella la risposta di come effettivamente può rinascere qualcosa che è nato da te ma entra nella vita degli altri e diventa qualcosa di nuovo Ecco, nel tuo futuro album ci saranno tracce di questo libro? Ma guarda, io ho pensato tanto, adesso tutti mi stanno chiedendo nella vita degli altri era una canzone adesso ho intenzione di finirla questa canzone in realtà io penso che se questa canzone ha avuto bisogno di questo spazio è giusto che mantenga questo spazio è una canzone che è un po' più silenziosa del solito però ha tante più parole, se vuoi so sicuramente che lo scrivere questo romanzo mi ha cambiato tanto lo scrivere le canzoni sto capendo tanto di più il peso delle immagini il peso della specificità che poi può comunque diventare universale e la pancia di emotività che crea in un particolare quindi insomma so che c'è un prima e un dopo se vuoi a livello di scrittura vedremo, non lo so buona notizia Grazie a tutti.